Prima di iniziare, rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. L'ottimo lavoro di Walter Ibotta si qualifica a lievarsi alla pole position. E il talentuoso Carlo Sainz completa la prima fila. Nel resto della griglia, invece, il fortunello Verstappen, Daniel Ricciardo e Leclerc, Norris Hamilton, Zunoda e Pierre Gasly, Pocon Giovinazzi, Sergio Perez e Vetter. Latifi, Zunoda, Mick Schumacher e Gita Mazepi. Stroll, infine George Russell in ultima posizione. Manca poco e le cinque luci del semaforo presto si spegneranno, dando il via al Gran Premio di oggi. L'ultima volta abbiamo guadagnato dei punti, continuiamo così. E salve a tutti ragazzi e bentornati da Gabriele Pio Carbonara. Questa è la puntata numero... Un attimo, eh. Quanto, 42, 43, 44, 45, eh. 47esima puntata su Formula 1 2021. Bene. Stavolta ci troviamo a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e soprattutto di lasciare almeno 10 like per il prossimo. Quindi, vando le cianci, iniziamo. 1, 2, sui motoridi, sui motoridi, papà. Sui motoridi. Bella partenza, eh. Sì, sì. Il nostro obiettivo è... Mamma mia! Mamma mia! Quasi contatto con Verstappen. Ruota a ruota tra Carbonara e Ricciardo. Attenzione. Con Verstappen che è quarto. Verstappen. Attenzione. Ruota a ruota. Tra i due contenenti per il titolo mondiale. Attenzione. Attenzione. Andiamo verso Coops. Stiamo arrivando a Coops, eh? Dove Verstappen è andato a muro. Te lo ricordi, quel bruttissimo incidente? No, non me lo sto ricordando. L'incidente di Verstappen. Quando Hamilton butta fuori Verstappen. Ah, sì. Mamma mia! Contatto tra le tue ore e pool! Attenzione. Allora, il nostro obiettivo è guadagnare più punti possibili su Verstappen. Giusto? Eh sì. Anche perché siamo dietro di Verstappen di 18 punti. Per il mondiale siamo in lotta anche con Daniel Ricciardo. Vero? Sì. Questa è una lotta a tre per il mondiale. Attenzione a Ricciardo. Ahia. Eh... Lungo. Flashback. Madoro! Mamma mia! Ciao Ricciardo. Altro che staccato è la Ricciardo. Incredibile. Adesso Verstappen sta facendo da tappo. Attenzione. Forse potrebbe essere un clamoroso colpo di scena. Secondo te avrà danneggiato l'ala? Eh... Ma chi? A Ricciardo? No, Verstappen. Ah, ma non lo so. No, no. Ho visto che sta allungando sull'eclare. Sull'eclare che... Eh sì, sta recuperando pure il mio confronto. Vai così. Vai così. Bella. Bella la curva Cops. Poi ti ricordi Verstappen che è andato sopra Hamilton a Monza? Sì, a Monza. Mi è salito sopra. Siamo solo al secondo giro sui cinque previsti di questo Gran Premio di Gran Bretagna. Rosciamo molto bene. Adesso andiamo all'ultima curva. Il circuito Silverstone. 1,36. 4,81. Il nostro miglior giro veloce. In gara. Andiamo a Village. Village. Il nome della curva. Andiamo qua. Adesso andiamo. Gas. Gas. In questo retilinio. E andiamo verso Blue... Blue Lens. Attenzione. Attenzione. Ancora, 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 ancora. La carbonara tiene. Andiamo all'Hoffield. E adesso si va verso Cops. Attenzione. Qua non si può. Ecco, e no. Eh sì, Verstappen, infatti, ha alzato il piede. Attenzione. Arriviamo a Maggots. Poi Beckets. E ora adesso andiamo verso Astow. Scritto Stowe. Con la doppia W. Lo sto facendo. E Leclerc ne approfitta. Charles Leclerc ne approfitta. Anche Norris. Anche Norris. Si unisce. Nella lotta per il podio. 1.357. Il miglior giro veloce. Stai zitto, Alex? Mamma mia. Gli abbiamo chiuso la porta in faccia a Leclerc. Meglio così. Miglioriamo sempre di più. Il nostro giro in gara. Vai così. Vai così, vai così, vai così. Comunque Bottas e Sainz sono irraggiungibili. Mamma mia! Che mossa strana ha fatto C'è Leclerc. Adesso voglio proprio vedere Leclerc e Verstappen come lotteranno. Vuoi vedere? Eh sì. Allora, siccome io farò 15 punti e Verstappen 10, guadagnerò su Verstappen 5 punti. E starei in 13 meno. Sì, sì. Perché siamo 18 punti. Guadagniamo due decimi. Mamma mia, mamma mia. Oh, mamma mia, contatto, 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 contatto. Vuota, 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 vuota. Norris è andato ai box Hamilton Il rosicone Infatti su Google ho scoperto che Siccome ha perso il mondiale Vorrebbe ritirarsi dall'AF1 Chissà se questa sarà Fake news Perché è strano che Hamilton Voglia ritirarsi Dopo una scompita del genere Vero? Secondo te sarà Fake news? Non si ridira Attenzione ancora 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 E di nuovo Verstappen e Hamilton Vuoi vedere la nuova sfida? Boss Verstappen avrà la rivincita Attenzione Arriviamo a Cops Attenzione 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 Ok Credo che L'abbiamo seminato Verstappen Quando andiamo 16 millesimi Su Nel secondo Nel secondo settore Intanto Vanti a ribotta Spinge Il gran premio Di Gran Bretagna Secondo Carlo Sainz Con una splendida Ferrari Fin qui Terzo Carbonara Che guadagna Tre punti Molto importanti Per la lotta Per il campionato E anche questa L'abbiamo superata E adesso Si va in Ungheria Budapest Dove c'è stato Lo strike Te lo ricordi E con la vittoria Di No Okon Okon Si Si Che nel team radio Ha detto Viva la France Sai che significa? Viva la pancia Eh Bambolottas Sarà In Alfa Romeo Con Guan Yu Ju In Alfa Romeo Allora Vediamo un po' Quanto abbiamo guadagnato Nel livello Sono 23 Ok Ok 15 punti Dietro Verstappen Poi Costruttori 37 Stiamo a buon punto Comunque Spero Che questo Video vi sia piaciuto Lasciate almeno 10 like E poi il prossimo Iscrivetevi al canale Perché il prossimo Butamento Sarà Budapest In Ungheria Ciao 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 Vittorio